per la rimodulazione dell'IVA e si intende procedere come? Non ci sarà un aggravio d'IVA, l'ho già dichiarato, l'abbiamo già chiarito, quindi non facciamo polemiche inutili. Stiamo semplicemente lavorando, come abbiamo già dichiarato, per simulare gli ultimi interventi e per definire poi nei dettagli la manovra economica, l'impostazione della manovra economica. Non ci fate fare la manovra economica oggi né domani mattina. La manovra economica ha i suoi tempi, adesso abbiamo presentato la Nadef, la nota di aggiornamento e adesso dateci qualche giorno con tranquillità per lavorare i dettagli. Grazie.